Buona giornata amici oggi è sabato 31 luglio 2021 siamo nel weekend di trapasso tra il mese di luglio e il mese di agosto siamo in alta stagione ovviamente il turismo incombe ma le notizie che riportano i giornali questa mattina il Corriere Adriatico e il resto del Carlino parlano molto di sanità e parlano anche di manifestazioni e la cronaca comunque incombe ma prima di vedere di leggere i giornali diamo un'occhiata subito al Santo del Giorno e al Meteo. Il Santo del Giorno è il Sant'Ignazio di Loyola un santo che è notissimo è stato il fondatore della compagnia di Gesù è un santo spagnolo ed è sepolto nella chiesa del Gesù a Roma i gesuiti si sono poi sparsi in tutto il mondo e sappiamo qual è stata la loro influenza dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista culturale e diamo un'occhiata anche al meteo che stamattina e vediamo che ancora il sole si espande su tutta la cartina della regione vediamo che sia sulla costa che nell'entroterra ci sono solo segni grafici che riguardano bel tempo tanto sole dunque sulle Marche salvo delle nubi alte in serata gran caldo con massime di nuovo comprese tra i 34 e i 37 gradi 20 a regime di brezza sulle coste con tendenza medio da est e sud est mentre sull'interno un tendenza debole da sud ovest ed ora diamo veramente un'occhiata ai giornali a partire dal Corriere Adriatico con la prima pagina che sintetizza un po' le notizie dell'interno l'autobus c'è ma non per tutti e si parla del trasporto pubblico in relazione al covid Adriabus mette le mani avanti con o senza il green pass i mezzi saranno pieni solo all'80% comunque il problema sono i controlli la riorganizzazione della didattica per il piano in scadenza il 6 agosto e di questo ne parlano anche i dirigenti scolastici per quanto riguarda la cronaca vediamo a centro pagina schianto a Rosciano gravissimo un giovane motociclista ancora sulla Flaminia che attraversa l'abitato e poi un processo violentava la bimba della compagna ha avuto 8 anni di carcere e poi simula una malattia per aggirare l'amica di un tempo vedremo questi particolari in centro pagina torna il ROF con l'attesa di Mattarella il programma di una delle più grandi manifestazioni che si svolgono nella regione Marche che raduna tanti tante persone che vengono dall'estero nel capoluogo pesarese apriamo le pagine dell'interno e vediamo com'è la situazione della sanità a livello regionale tra rischio moderato e contagi in ascesa il sentiero di agosto è il titolo che appare in primo piano sulle Marche il monitoraggio del ministero ISS aumento dei casi ma ospedale stabili ieri 151 nuovi casi positivi lievi incrementi tra rianimazione e area medica dunque 151 casi positivi lo evidenzia questa tabella i ricoveri in intensiva sono più 1 in semi intensiva meno 2 ricoveri non in questi reparti di particolare importanza sono più 2 il totale dei ricoveri aumenta di un caso dimessi sono più 3 rispetto al giorno precedente il totale dei tamponi eseguiti aumenta di 2598 unità da Borgo Pace a Montegallo inizia la caccia ai Bovax fino ai luoghi delle vacanze a pieno regime i camper e la vaccinazione itinerante che gira un po' nel territorio dell'entroterra salta a Martini e dice non c'è nessun obbligo ma noi diamo le prestazioni e vediamo subito la pagina di Pesaro dove ancora ci sono strascichi per quanto riguarda appunto questa situazione del Green Pass con passe o senza gli autobus pieni solamente all'80% Adria Bus apre la corsa all'acquisto di nuovi mezzi il problema sono i controlli il piano di riorganizzazione della didattica i presidi hanno tempo fino al 6 agosto e l'ufficio scolastico regionale ha indicato quale data ultima quella del 6 agosto per ricevere dai dirigenti scolastici di Pesaro e dall'Interland la bozza del piano di riorganizzazione della didattica e dei nuovi flussi di studenti per rimettere in moto il trasporto scolastico ebbene il trasporto scolastico è uno dei problemi importanti perché all'interno dei bus esistono focolai di propagazione del virus e quindi è inutile poi magari tutelare le scuole, le aule all'interno degli edifici se poi gli autobus sono lasciati liberi di espandere l'epidemia e abbiamo una dichiarazione sui giornali questa mattina sul Corriere Adriatico anche del preside, del dirigente del liceo Nolfi meno studenti per classe ma la politica non ci sente il dirigente Giombi sul rebus vaccinazioni per studenti e personali ebbene il dirigente ha rivelato che nel liceo Nolfi quasi tutta la totalità dei professori, dei docenti ma anche del personale ha avuto il vaccino quindi si è vaccinata solo due persone hanno dichiarato esplicitamente di non volersi vaccinare se si vuole uscire dalla didattica a distanza ha dichiarato Giombi e sperare in una scuola in presenza occorre valorizzare un mix di azioni dunque non solo vaccinazioni ma anche un potenziamento dei trasporti dei presidi sanitari nelle scuole o almeno dedicati specificatamente alle scuole sul territorio e poi la riduzione del numero degli alunni per aula, per classe sono queste le carenze che anche nel trascorso anno scolastico hanno infierito sulla organizzazione della didattica nuova impennata nei contagi ma 18 comuni sono covid free le piccole realtà si difendono meglio i medici di base, dice, è la prossimità e poi abbiamo questa tabella sul Corriere che evidenzia la mappa della libertà Borgo Pace, Frotte Rosa, Frontino, Frontone Isola del Piano, Lunano, Piobico e Sasso Feltrio sono otto piccoli comuni tra i 300 e 1500 abitanti covid ma quarantena inferiore a 5 coinvolge 10 comuni e sono Cantiano, Cartoceto, Mercatello sul Metauro Mondavio, Monte Calvo in Foglia Monte Copiolo, Monte Porzio Peglio, Sant'Ippolito e Serra Sant'Abbondio ma ci sono grosse novità per quanto riguarda la sanità perché la regione sta elaborando il piano sanitario regionale e sono in arrivo 168 milioni nella nostra provincia 140 dovrebbero essere destinati al nuovo ospedale di Pesaro e 12 al Santa Croce di Fano nel master plan della regione fondi anche per Urbino, Pergola, Caglie e Fossombrone risorse per realizzare la rete di assistenza integrata pianificate dall'assessore Baldelli dunque vengono resi disponibili così per la provincia di Pesaro Urbino un totale di 168,4 milioni di euro ebbene il cambio di indirizzo che ha fatto la giunta regionale rispetto al precedente esecutivo vede le risorse destinate al Santa Croce di Fano che godrà di una nuova vita perché non solo non chiuderà come invece si pensava in un primo momento poi oggetto di un ripensamento della giunta Ceriscioli ma godrà di una nuova vita perché come era previsto fin dal 2018 qui vengono in cambiamento come era previsto nel 2018 ora vengono programmati nuovi interventi e sono interventi chirurgici programmati quindi come era stabilito dal protocollo della Regione e del Comune l'attenzione della giunta regionale riguarda anche gli ospedali dell'entroterra vediamo che c'è uno stanziamento di 7,2 milioni di euro per il Santa Maria della Misericordia di Urbino e di 4 milioni per i Santi Donnino e Carlo di Pergola significativa anche la destinazione di 3,5 milioni di euro all'ospedale Angelocelli di Cagli e di 2 milioni al presidio di Fossombroni dunque sono risorse importanti queste che non solo qualificano l'assistenza ospedaliera nei nosocomi di Pesaro e Fano ma integrano anche le risorse a disposizione degli ospedali dell'entroterra che al momento appartengono all'area vasta giriamo pagina e vediamo la cronaca violentava la bimba della compagna nel cellulare la registrazione dell'orrore dopo tre anni di incubo la ragazzina ha raccontato tutto al giudice e alla polizia lui 51 anni è stato condannato a 8 anni di carcere ebbene ha giocato ruolo importante una registrazione audio di atti sessuali consumati in auto la ragazzina stava tornando da una serata con le amiche quando è salita in auto con il patrigno ma l'amica a cui aveva già cominciato a confidare dei sospetti cosa ha fatto? ha acceso il registratore del cellulare e l'audio dell'orrore è finito sul tavolo della procura assieme al cellulare del 51enne quindi dentro questi dispositivi sono stati trovati prove reali di quello che è stato consumato e quindi l'imputato è stato condannato a 8 anni di carcere e vediamo ora quello che accade nel mondo del lavoro cantiere pericoloso denunciato il responsabile i carabinieri del NIL trovano ponteggi non a norma e assenza di protezioni in piazzale Cinelli controlli dunque a tappeto nei cantieri è stato denunciato il responsabile di un'azienda subappaltatrice dei lavori che si stanno facendo in questo piazzale i carabinieri di Fano e di Urbino insieme al NIL e al nucleo dell'ispettorato del lavoro ai forestali hanno portato avanti una serie di verifiche sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nei cantieri edili e quindi si stanno facendo verifiche l'edilizia in questo momento è in piena espansione però tutto deve essere realizzato secondo le normative abbiamo ancora strascichi alla vicenda della manifestazione dei Novax che si è svolta nei giorni scorsi a Pesaro strascichi che hanno determinato anche dichiarazioni a livello nazionale sono espressi anche dei parlamentari che hanno evidenziato la loro solidarietà al sindaco di Pesaro Ricci 500 sindici scrivano a Ricci questo lavoro è diventato pericoloso hanno evidenziato chiedono alle istituzioni chiare azioni sui vaccini ma scoppia la polemica con le parole contro la polizia scusate inquadro meglio ecco l'articolo così eccolo vediamo qui ancora una foto della manifestazione di coloro che hanno protestato contro l'introduzione del Green Pass sui Novax il sindaco Matteo Ricci riceve tanta solidarietà ma anche critiche per le parole pronunciate sul lavoro della polizia durante la manifestazione sotto casa critiche che vengono espresse soprattutto dai sindacati delle forze dell'ordine dunque oggi poi addirittura si rifà un altro tour un'altra manifestazione che prenderà il via da Piazza del Popolo forse sarà stanziale rimarrà lì in Piazza del Popolo a Pesaro ancora dunque un tour tra le emittenti il sindaco di Pesaro racconta qualche ulteriore dettaglio sulla sera del corteo sotto casa sua ma la questione centrale diventa ora la tensione con le forze di polizia e a Carpegna si sviluppa ancora la riunione degli stati generali dell'artigianato è nata l'era della digitalizzazione nei tre giorni di Carpegna rinnovata la richiesta di garantire il credito per lo sviluppo del settore un tempo l'artigianato rappresentava lo zoccolo duro dell'economia regionale ed era un esempio un po' per tutte le regioni a livello nazionale ora la cosa un po' si è attenuata perché l'artigianato ha sofferto molto dalla crisi che è iniziata nel 2009 si è protratta poi per tutto il decennio fino a oggi che è poi stata incrementata dall'avvento della pandemia comunque ancora l'artigianato resiste ed è veramente una parte importante della economia regionale benissimo ancora vediamo sulla pagina del Valle Foglia alberi tagliati sale la protesta la sindaca priorità ai pedoni si parla di Monte Labate platani sacrificati per il marciapiede le fogne i verdi dicono c'erano soluzioni alternative a Monte Labate dunque c'è un grande malcontento tra i cittadini in particolare quelli che abitano a Osteria Nuova per il taglio di alberi avvenuti alcuni giorni fa nel corso di alcuni lavori per il rifacimento dei marciapiedi e delle fagnature lungo la strada provinciale sui social sono apparsi numerosi post nei diversi gruppi locali in cui si esternano rabbia e incredulità per la scelta fatta dal comune che cade tra l'altro in un momento dove il tema ambientale preponderante e i cambiamenti climatici stanno facendo presa sulla sensibilità delle persone ma non solo a Montelabate si protesta per il taglio degli alberi lo si fa anche in altre località fanno per esempio la previsione del taglio degli alberi di piazza Marcolini ha suscitato ugualmente una ridda di proteste a Urbino per il turismo lento e verde ci sono The Lovely Place anche Urbino entra nel programma di San Marino con altri 116 enti locali dunque sinergia e coordinamento per l'ennesimo brand e nuovo portale web che si chiama The Lovely Place per il tavolo territoriale sul turismo è stata avviata giovedì scorso la fase esecutiva del progetto al centro congressi di San Marino in linea con i principi dell'agenda 2030 e con il sostegno della organizzazione mondiale del turismo e sono iniziative queste che propagandano promuovono il settore turistico non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale dove questi settori sono molto apprezzati e poi Urbino si prepara a celebrare la festa del Duca ospiti emiliani martelli bocci montanari ci saranno poi tanti giochi per i bambini gli eventi sono confermati per quattro giorni ebbene una festa del Duca che si svolge dall'11 al 14 agosto nella città ducale a Fano smettete di tagliare alberi sale la protesta per il verde lega ambiente contesta la politica del comune mazzanti dei 5 stelle città dei bambini o di Attila interroga ebbene migliorare un ambiente urbano non significa tagliare gli alberi solo perché sono vecchi la fronda ai progetti per riqualificare le piazze Andrea Costa e Marcolini allarga il suo perimetro e si estende al circolo di lega ambiente di Fano che chiede a gran voce un ripensamento dell'amministrazione comunale sul taglio dei lecci che al momento sono in piazzale Marcolini severa anche la critica di Tommaso Mazzanti che è il capogruppo consigliare del Movimento 5 stelle è stata rinnovata rinnovato il consiglio dell'Università dei Saperi Paolo Lucarelli è il nuovo presidente Mascarucci il presidente uscente resta nel direttivo abbiamo Paolo Lucarelli e Silvia Omiccioli che sono stati nominati rispettivamente presidente vicepresidente dell'associazione mentre Maria Teresa Mascarucci e Sergio Delrico sono giunti alla fine dei loro mandati e poi la notizia di cronaca raggira la compagna di scuola simulando una grave patologia così le ha spillato 9.000 euro quando i soldi sono finiti e passata alle minacce si tratta di due ragazzi un uomo e una donna i due secondo l'accusa in accordo tra loro avrebbero fatto credere a una ex compagna di scuola che il compagno che versava in condizioni di salute molto molto difficili così hanno chiesto aiuto in denaro questa signora e le hanno spillato i soldi e poi una bella vincita una bella vincita al superenalotto 21.000 euro con 5 numeri una cinquina azzeccata da una signora che ha giocato al King Coffee Metauro ed ora diamo un'occhiata al Carlino di Pesaro dove l'articolo di apertura è dedicato alla manifestazione dei Novax una manifestazione blindata vediamo subito all'interno delle pagine come questa notizia viene annunciata vediamo così ecco sì Novax indagati per minacce e violenza privata il sindaco va in questura per le denunce aperto un fascicolo in procura al momento i nomi scritti sono 14 ma il numero è destinato a salire in base alle identificazioni e il prossimo passo delle indagini sarà di sentire più testimoni possibili al vaglio anche le telecamere il legale dei contestatori e la contromossa queregliamo ricci oggi un'altra manifestazione che sarà blindata l'avvocato fiorentino Lorenzo Nannelli per ora tutela solo Umberto Carriera ma presto potrebbe essere nominato anche da altri Gravi ha dichiarato le parole del sindaco depositeremo la denuncia contro di lui e si prevede un sabato caldo l'appuntamento è alle 18 in piazza del popolo tanti video pubblicati sui social dimostrano dicono appunto gli accusati che non è successo nulla di grave con i camper il vaccino mette il turbo invece nei centri è una primola rossa da lunedì parte il viaggio nelle zone dell'entroterra la ricerca delle persone ancora non immunizzate nel frattempo scarseggiano le dosi negli hub costretti a rimandare nel weekend oltre 4.000 appuntamenti dai camper prima toccherà alcuni comuni del distretto di Urbino poi scenderanno a Fano e dopo Ferragosto arriveranno a Pesaro le zone più indicate sono quelle di Tavuglia Gabicce Mare due comuni più indietro nel distretto per la percentuale dei vaccini poi ci sarà anche Gradara che però ha già un hub aperto al sabato gestito dai medici di famiglia corriamo siamo ormai vicini alla conclusione e abbiamo anche tutto il programma del ROF questa mattina sui giornali ROF quell'area di eccezionale normalità e ci sono prenotazioni da mezzo mondo è il festival della rinascita nonostante le limitazioni oltre al presidente Mattarella che sarà presente a Pesaro tra gli ospiti anche il ministro all'istruzione Bianchi Palaccio il direttore artistico dice mesi duri ma avremo grandi soddisfazioni e annuncia i titoli del prossimo anno con due nuove produzioni intanto quest'anno il cartellone principale è formato il 9 12 16 19 agosto dal Moise Faraon al Vitifrigo Arena invece il 10 il 13 il 15 il 18 al teatro Rossini verrà rappresentato il signor Bruschino l'11 il 14 il 17 il 21 alla Vitifrigo Arena Elisabetta regina d'Inghilterra e al 22 agosto in piazza del popolo ci sarà il galà su Rossini BS supera i fatturati del 2019 ed è boom sei mesi d'oro per l'azienda della famiglia Selci utile netto a 28 milioni dagli 11 dell'anno scorso nonostante la crisi sono state fatte molte assunzioni e per quanto riguarda le ferie sono in programma tre settimane ma solo perché mancano le forniture dai terzisti se no gli ordini ci sarebbero e l'azienda potrebbe lavorare a pieno regime per fortuna l'economia rinasce qui abbiamo ancora le notizie di cronaca di cui abbiamo già parlato otto anni per gli abusi sulla figlia della compagna sulla pagina di Fano 11 milioni per il Santa Croce l'annuncio dell'assessore regionale all'edilizia ospedaliera Baldelli risorse importanti anche per Pergola e poi vediamo il consiglio comunale che si è svolto ieri del tardo pomeriggio e nella serata c'è stata la discussione sulla mozione dell'ASET l'ASET la mozione recupera in qualche modo con gli emendamenti marche multiservizi almeno come collaborazione e ha l'unanimità dei consensi tre contestatari escono dai banchi diciamo così perché in realtà la seduta si è svolta sul web e loro erano a casa loro e sono dunque vediamo sono Nicolelli vediamo un po' se riesco a rintracciare i nomi dunque vediamo un attimo adesso non li trovo sì sì eccoli qua sono Enrico Nicolelli Enrico Fumante Federico Perini che contrario al documento e in linea con il PD provinciale al momento del voto sono usciti non dico dall'aula perché l'aula non c'era ma sono usciti e quindi non hanno votato Fano Sud l'ora dei manifesti il comitato tappezza la città e sono i residenti della statale adriatica Sud che da Metauriglia arriva fino a Ponte Sasso e a Marotta la città sarà tappezzata da un poster firmato da 5.000 residenti per chiedere la realizzazione della complanare e il completamento della ciclovia siamo stanchi hanno detto di rischiare la vita e ieri c'è stato questo terribile incidente a Rosciano schianto tra una moto e un'auto il centauro è stato trasportato a Torrette con l'eliambulanza è successo ieri pomeriggio il motociclista ha 29 anni è stato ricoverato sotto sciocco al Santa Croce si tratta e poi il Santa Croce la 55enne fanese alla guida della Citroen quindi gravi le condizioni degli interessati da questo incidente a Mondolfo si parla di elezioni come del resto a Fossombrone posta dal sindaco una lettera e semi d'ulivo la singolare iniziativa di Barbieri in vista delle amministrative del 3-4 ottobre a Mondolfo tanto è stato fatto ma non basta ancora quindi votate mi dice Barbieri perché intendo ripropormi per il prossimo quinquennio e poi un'ultima notizia per quanto riguarda Urbino servizi buco da 600.000 euro la pandemia del 2020 ha quasi azzerato alcune entrate della società la presidente Volponi ma ora vediamo segnali di ripresa una perdita di esercizio di più di 200.000 euro e i ricavi delle vendite prestazioni passati dai 3,3 milioni di euro del 2019 a 2,7 quindi un calo considerevole nel 2020 il 2020 è stato in realtà un anno durissimo per Urbino servizi con la pandemia che ha quasi azzerato alcune delle entrate della società tra fine inverno e buona parte della primavera soprattutto non hanno dato quello che si prevedeva ai parcheggi e bus per i turisti è stato difficile dunque condurre la gestione per questo anno l'analisi Mechelli non è una perdita preoccupante perché dipende solo dai parcheggi ha dichiarato e concludiamo con una notizia di un quartiere di una frazione di Urbino si tratta di Castel Cavallino dovete riqualificarla è una interrogazione questa dei consiglieri all'opposizione Londèi e Cangini che chiedono alla maggioranza di ridare vita allo storico borgo in previsione anche del anniversario che si terrà prossimamente per il Duca Federico e questo è tutto per la giornata di oggi Massimo Foghetti vi ringrazia e vi dà appuntamento alle informazioni di Fano TV questa sera alle ore 20.30 buona giornata Grazie a tutti